L'idea di costruire una via di comunicazione stradale sotto il massiccio del Gran San Bernardo risale già all'Ottocento, ma divenne concreta solo nella primavera del 1958. Dopo un'accurata progettazione, le attività dei due cantieri presero via. Furono organizzate numerose squadre di lavoro, composte da tecnici e operai. Le dure condizioni ambientali, la fatica e l'impegno sono state delle costanti quotidiane, ma l'idea di far parte di un grande progetto ha reso lo sforzo maggiormente sopportabile. Finalmente, il 5 aprile 1962, l'ultimo diaframma che separa l'Italia dalla Svizzera cade. I due cantieri si incontrano. È il 19 marzo 1964. Il traforo del Gran San Bernardo irrompe nel cuore delle Alpi. Il tunnel rappresenta il primo traforo stradale alpino. Con la sua lunghezza di 5.798 metri, collega la regione italiana della Valle d'Aosta con quella svizzera del Vallese. La galleria è strutturata in un'unica carreggiata con due corsie di marcia a doppio senso. I veicoli che la percorrono sono tenuti a pagare un pedaggio. Grazie alla posizione strategica del traforo del Gran San Bernardo, le città europee del nord sono più vicine. L'incantevole cornice panoramica del Vallese fa da sfondo al castello di Chion nei pressi di Montreux. Questo affascinante gioiello dell'epoca medievale è edificato sopra un isolotto roccioso. Da Montreux si entra nel Vallese, passando da Saint-Maurice col suo castello. La grotta delle Fate, con il suo lago nascosto, stupisce i suoi visitatori dal 1863. Saint-Maurice vanta un ricco patrimonio culturale, a testimoniarlo l'abbazia risalente all'anno 515, che costudisce al suo interno un autentico tesoro. Il vescovo Saint-Eodule, patrono del canton vallese, vigila su Chion, capoluogo dello stesso. Il centro storico medievale ospita il Museo dell'Arte e si situa tra le colline di Valère e di Turbillon. La cittadina di Martigny, luogo di incontri e simbolo di storia e cultura, è situata sul fiume Rodano. Tra le attrattive turistiche che la rendono famosa compare il Museo del San Bernardo, che raccoglie opere d'arte ospitando anche splendidi esemplari di questa famosa razza canina. Il più importante polo d'attrazione è la Fondazione Piergianaddà. Il museo, costruito su antichi resti di un tempio, ospita mostre pittoriche oltre all'esposizione permanente sui Gallo Romani. A completare l'offerta, il Museo dell'Automobile, che raccoglie ed espone una cinquantina di veicoli d'epoca e il Parco delle Sculture, da ammirare in tutta la sua bellezza e particolarità. Martigny ha una posizione strategica per ammirare lo splendido paesaggio circostante, dove la natura si interseca con la fauna locale ed i borghi alpini. Il viaggio per rientrare al traforo del Gran San Bernardo non può che concludersi assaporando le delizie della cucina del Vallese. Tra queste il formaggio raclette, che si gusta caldo, accompagnato da patate bollite e sottaciti. Il tutto valorizzato dal famoso vino vallese Fondant e dai digestivi locali. Dopo aver condiviso tutte le splendide esperienze del Vallese, il viaggio prosegue attraversando il tunnel verso una nuova meta, il versante italiano. La salvaguardia dei milioni di viaggiatori che percorrono il tunnel rimane l'obiettivo primario. Per garantirla sono presenti due sale di controllo. Gli addetti alla sicurezza, attraverso monitor che riprendono ogni metro della galleria, possono verificare ogni inconveniente ed allertare tempestivamente le squadre di soccorso. Il tunnel dispone di modernissimi veicoli antincendio, tra cui quello dotato di un dispositivo di rotazione posto sotto il telaio. È in costruzione una galleria di sicurezza e servizio che affiancherà la galleria stradale esistente. L'apertura del traforo del Gran San Bernardo ha reso possibile il collegamento tra le città a nord della Svizzera e quelle del sud Europa. Prima della sua costruzione, l'unico modo per oltrepassare il confine italo-svizzero era percorrendo solo nei mesi estivi il passo del Gran San Bernardo, dove si trova il famoso ospizio. Il paesaggio che il visitatore si trova di fronte all'uscita del settore valdostano è quello delle montagne imponenti, che fanno da sfondo a piccoli paesini alpini immersi nella natura circostante. Le attività principali di una realtà turistica, come la Valle d'Aosta, sono strettamente legate al territorio. In inverno la neve è padrona assoluta e rende fattibili tutti gli sport ad essa collegati. Per grandi e bambini, dallo sci alle racchette da neve, l'offerta è varia e personalizzata per soddisfare i desideri di tutti. La tradizione del termalismo valdostano e vallesano ha origini lontane. Godere dei benefici delle acque di sorgente nel più completo relax ha da sempre suscitato grande interesse. Il capoluogo Aosta conserva le sue origini storiche esibendo vicino ad attrattive di più recente costruzione monumenti d'epoca romana. Il teatro romano, le porte pretoriane, la collegiata di Sant'Orso e l'arco d'Augusto sono meta in ogni periodo dell'anno di numerosi visitatori. Una delle maggiori e più conosciute attrazioni è rappresentata dai castelli che decorano la Valle d'Aosta in tutto il territorio. Tra questi riscuote grande interesse turistico il Forte di Bard che, grazie al suo famoso e spettacolare Museo delle Alpi, permette al visitatore di ogni età di intraprendere un viaggio unico e ricco di emozioni prima di lasciare la regione valdostana. Sono molteplici i sapori che la Valle d'Aosta ha saputo conservare e combinare tra loro. Tra questi il Jambon de Boss, prodotto a pochi chilometri dal traforo del Gran San Bernardo, il cui gusto è esaltato dai vini locali. Da 50 anni, grazie all'apertura del traforo del Gran San Bernardo, territori come la Valle d'Aosta e il Vallese possono essere collegati ed essere meta di un turismo di qualità. Sotto l'occhio vigile e protettivo delle più alte e maestose vette alpine. Sotto l'occhio vigile e protettivo delle più alte e maestose vette al della mia vita. Sotto l'occhio vigile e protettivo delle più alte e maestose vette al di un'occhio vigile. Grazie a tutti